Amore, cucino io? Va bene! Faccio una bella mezza manica a zucca e salsiccia Buona! E faccio le keibappi Ma ti serve una mano? No, no, tu aspetta là sul divano che tra poco arrivo Ok! Avete visto? Sono proprio una donna fortunata Questo è quello che succede ogni volta che cucina lui Mentre quando cucino io... Amore, preparo il pranzo, eh? Che fai? Che ne so, carbonara? Mmm... Amatriciana? Mmm... Zucchini e speck? Sì Dov'hai? Vengo a cucina Ma cucino io, amore? Appunto Per sale l'acqua ce l'hai messo? Sì Sale grosso o sale fino? Grosso Le zucchine come me le hai tagliate? Rondelle 3 mm I fiori di zucca ce l'hai messi? Fine Per il soffritto che hai usato, aglio o cipolla? Secondo te cipolla Brava, lo speck dove l'hai preso? Da Gino o da Luciano? Da Luciano T'ho detto mille volte però di prenderlo da Gino Perché se sa che Gino c'ha un aglio migliore Ma Gino era chiuso E ogni volta che c'avei tu ha chiuso Gino Sai tipo marzare le zucchine ce l'hai messo? Ah, no E se vede che sto sciape Ah, al massimo le senti che sto sciape No, se vede che sto sciape A uno chef gli è bastato lo sguardo Ah sì? Allora tieni chef, cucina tu E cucino io sì E ricordate di pulire la cappa Perché la cappa deve essere pulita